Musica Si rinnova l'appuntamento con cronache e commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Piano regionale dei rifiuti, primo sì da parte del Consiglio regionale. Casentino Bike, presentata a Palazzo del Pegaso, la trentesima edizione. È arrivato il primo sì al nuovo piano dei rifiuti da parte del Consiglio regionale. Superamento delle discariche, raccolta differenziata che entro il 2023 dovrà raggiungere l'80%, individuazione di alcuni impianti innovativi, autosufficienza di ogni ato e no a nuovi inceneritori. Sono alcuni dei punti principali del nuovo piano adottato a maggioranza dal Consiglio regionale al termine di un intenso dibattito in aula. Favorevoli PD e Italia Viva, contrarie tutte le opposizioni. Respinti inoltre tutti gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni che chiedevano di far slittare il piano. Per il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, il piano è un esempio per tutta Italia. Io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali. Il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni. Da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica. Dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori, e andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche, con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo, proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti dei rifiuti. Tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni, ma non deve essere il piano a prevederli perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo quando una proposta che viene da un comune e da un ente di gestione vediamo alle condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto. Sono 18 le proposte che vengono fuori. È un piano che è nato lungo un percorso partecipato da parte dell'assessorato ma anche uno straordinario lavoro è stato fatto dalla Commissione Consiliare che ha udito veramente tantissimi soggetti interessati e tantissimi sono i soggetti, sindacati, categorie, istituzioni che sollecitano appunto l'adozione di questo piano per poi andare avanti e proseguire nel confronto, nella discussione per arrivare a migliorarlo ancora prima dell'approvazione anche vedendo quelle che saranno le osservazioni che verranno presentate. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti quello della riduzione nella produzione dei rifiuti della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime è un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. La via è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale la Toscana che diventa una regione unica per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo tre anni che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Gianni e in questo caso all'assessora Monni Il portavoce dell'opposizione Marco Landi pone l'accento sul tema degli impianti non è credibile oggi, afferma Landi che si possa arrivare a togliere il 35% dei rifiuti dalla discarica ed è molto difficile avvicinare quell'obiettivo della riduzione al 10% programmato entro il 2035 Un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro saranno realizzati quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto perlomeno fino ad oggi rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione c'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto siamo anche in una fase transitoria perché poi questi impianti anche se pochi che già hanno avuto l'approvazione entreranno in funzione tra qualche anno quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe La capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti ha ricordato come il piano si è atteso da 10 anni e che ce ne siano voluti 3 per la sua elaborazione Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da 3 e in realtà si è andato a creare grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione dei privati è un rovesciamento completo invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti come per esempio il gasificatore di Empoli che è stato respinto dalla popolazione che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano insomma probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato in tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi utility grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione dei rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto Per Massimiliano Baldini della Lega il piano rischia di essere stravolto in sede di osservazioni e il pericolo è che non arrivi in tempo neanche per il 2025 Il piano è un piano che non è coraggioso non fa una scelta di pianificazione nascondendosi un po' dietro le norme ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ato per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico contrario ai termo valorizzatori ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti difficilmente realizzati ce ne sono pochissimi esempi quindi si sa poco di questi impianti non c'è una concreta fattibilità sul campo e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori e sono molto costosi pensate a waste to chemicals 200 milioni, 250 milioni il costo mentre invece il termo valorizzatore è una tecnologia che conosciamo che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale e che inevitabilmente chiuderà il ciclo o cercherà di chiudere il ciclo perché ad oggi le difficoltà sono grandi basta vedere quanti rifiuti vanno fuori dalla regione vanno fuori dall'Italia e dalla Toscana e quindi quanto è da un punto di vista economico il prezzo che i cittadini si trovano a pagare ogni giorno in Italia Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia evidenzia il ritardo del lato centro Questo piano fa un sacco di discorsi è molto ideologico richiama tanto l'economia circolare di cui si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termo valorizzatore di case Passerini lato centro, che è quello dell'area metropolitana si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici il famoso bando ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni La presidente della quarta commissione Lucia De Robertis replica così ad alcune critiche mosse dalle opposizioni Sulla partecipazione non sono d'accordo perché si è un po' giocato su un equivoco da parte del garante che poi ha chiarito ma si legge sempre la prima parte e non la seconda sul fatto dell'autosufficienza è una cosa che è prevista quindi sarebbe auspicabile naturalmente anche noi non vogliamo una Toscana che produce una Toscana che smaltisce lavoreremo per questo ci confronteremo con i territori questo non è un piano localizzativo quindi non poteva localizzare ulteriori impianti rispetto a quello che ci sono la storia di Casa Passerini e l'impossibilità per la regione di autorizzare la riapertura è conosciuta credo che l'opposizione faccia il suo mestiere insomma è evidente che il piano è perfettibile è evidente che è solo un primo passaggio poi dopo abbiamo sentito dire in aula che vogliamo anche i termovalorizzatori forse non è la soluzione ideale in questo piano non ci sono non vogliamo creare dei fraintendimenti insomma ci sono nuovi sistemi nuovi impianti nuove possibilità nessuno demonizza il termovalorizzatore però abbiamo detto che debbono andare a chiusura e nella fase transitoria a fare il loro mestiere il confronto prosegue ci sono infatti 60 giorni di tempo dall'approvazione del piano per la raccolta delle osservazioni tre i percorsi previsti il marathon da 64 km la Gran Fondo da 54 ma anche una non competitiva da 25 km domenica 8 ottobre torna la Casentino Bike la competizione dedicata all'MTB che taglia il traguardo delle 30 edizioni le novità in particolare quelle che riguardano i percorsi sono state presentate a Palazzo del Pegaso per questa trentesima edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi abbiamo fatto percorsi completamente rinnovati inserendo anche un percorso marathon dove va a toccare quei sentieri quelli di quei tracciati dove il parco nazionale è da oltre 30 anni che non è permesso poterci accedere per eventi di questo tipo soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Bibiena Filippo Vagnoli che ha evidenziato come il territorio sia particolarmente legato al ciclismo e alla mountain bike nello specifico è l'unico territorio in Toscana che ha visto completare tutta la ciclopista dell'Arno quindi nel nostro territorio la famosa ciclopista che parte proprio dal Casentino ovvero dalla sorgente dell'Arno e deve arrivare a Marina di Pisa nel nostro territorio è completa e quindi anche questo sta portando ad uno sviluppo importante di questa disciplina circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli fa parte della Coppa Toscana e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Bibiena che lasciatemi dire è uno dei più belli della nostra provincia di Arete e di tutta la Toscana ed è tutto grazie per la cortesia attenzione vi ricordo che l'appuntamento con cronache e commenti torna la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti